ciao salve a tutti vi volevo augurare una felice vigilia di natale e un felice natale e un buon anno a proposito vi volevo dare tre suggerimenti di cosa un trader deve fare quando perde i soldi o perde la cifra giornaliera che si era prefissata perché come ho detto bisogna stabilire anche quanto si può perdere nell'arco di una giornata se per esempio avete perso 50 euro 100 euro che è il massimo che potete perdere allora primo dovete fermarvi assolutamente dovete fermarvi e vi dovete staccare dal pc vi dovete distrarre e non dovete più pensare al trading per quella giornata ma dovete magari farvi una tazza di tè uscire camminare fare sport oppure fare qualcos'altro e in quella giornata non dovete più pensare alle perdite mi rendo conto che sia una cosa davvero difficile però vi dovete distaccare dal pc perché significa che in quella giornata non non va bene le vostre emozioni sono altamente negative due allora bisogna riprendere il trading solamente il giorno dopo perché il giorno dopo vi sentite più carmi avete fatto una bella dormita magari avete fatto anche la vostra meditazione quotidiana e quindi dovete riprendere il giorno dopo se nel caso avete perso una somma tipo 100 euro non cercate di recuperare tutto ad un colpo queste 100 euro investendone 200 perché rischiereste soltanto di perdere maggiori operazioni ma quello che dovete fare quello che dovete fare è recuperare piano piano quindi mettetevi a investire il minimo per ogni operazione e dovete assolutamente guardare le occasioni guardare i grafici e cercare di investire nei momenti giusti e negli orari opportuni e non perché avete perso dei soldi e dovete recuperare questo è avidità quindi dovete cercare di recuperare sì questi soldi però lo dovete fare in maniera molto cauta investendo sempre piccole operazioni però queste operazioni che siano maggiormente vincenti e dovete investire solamente quando vedete dei grafici opportuni poi la terza cosa che dovete fare è soprattutto non pensare ai soldi mi rendo conto che questa è una cosa difficile da fare però dovete pensare ai grafici perché i grafici nei grafici vi dicono tutto i grafici vi dicono le operazioni che vengono fatte dagli altri trader se stanno andando a ribasso se stanno andando a rialzo quindi i grafici accompagnati dagli indicatori quindi quello che dovete fare non pensare alla somma che dovete recuperare ma pensare a questi grafici e per esempio a come va il trend in varie situazioni cioè dovete divertirvi in quello che fate e non lo dovete fare per dovere o perché avete perso ma lo dovete fare perché avete visto vari grafici e varie opportunità di investimento quindi queste sono le tre regole che dovete rispettare e vedete Fufina sta dietro come al solito gli piace stare sul divano io vi fa anche lei i migliori auguri per Natale e per un felice anno nuovo e il mio regalo per Natale è questo io ho sviluppato una tecnica che con scadenza 20 30 minuti in questi giorni e l'ho provata ed è una tecnica favolosa perché tutte le operazioni stanno uscendo vincenti quindi è molto prestante e questa tecnica è molto prestante e quindi io ve la consiglio e vi faccio vedere subito il video di questa tecnica e vi farò vedere tante altre operazioni che sto facendo con questa tecnica ve la metterò anche nel mio sito che vorrei ricordarvi che il mio sito è www.opzioni binarie 60 secondi.it per chi volesse maggiori informazioni e vi metterò anche dei grafici multipli per coloro che intendono investire su più asset contemporaneamente sono grafici con time frame a 10 minuti questa tecnica mi sta dando moltissime soddisfazioni ed è il mio regalo per Natale per voi vi auguro tanto bene e un felice Natale ciao un bacione grosso ciao a tutti vediamo la tecnica vediamo subito questa nuova bellissima tecnica molto prestante allora andate sul mio sito www.opzioni binarie 60 secondi.it e andate nella sezione grafici qui troverete i vari grafici e andiamo a grafico unico così vi faccio vedere come si impostano gli indicatori e andate sul mio sito allora qui c'è un grafico bello grande allora impostiamo prima di tutto un time frame di 10 minuti allora io tolgo le bande di bollinger li rimuovo e inserisco il parabolic SAR ok allora poi la DX ha sempre a 14,9 con la linea a livello di 25 e poi inserisco una media mobile moving average sul prezzo di 40 periodi allora la media mobile di 40 periodi è una media che si comporta anche come supporto o resistenza allora è facilissima questa tecnica è tutto qui nel senso sono pochi gli indicatori però sono buoni e migliori allora abbiamo il parabolic SAR una media mobile a 40 periodi e l'indicatore ADX ha 9 periodi e smoothing 14 per chi lo volesse rimettere deve andare qui ad x deve andare qui ad x deve togliere la ed xr andando su remove e poi deve andare su edit e settarlo a smoot 14 di period 9 invece per poter mettere la linea dei 25 bisogna andare su edit plot guides add line e scrivere 25 di colore rosso se no non si vede ok allora tutto qui sono solamente tre indicatori con un time frame di 10 minuti allora adesso vi spiego subito la tecnica questa tecnica ha una scadenza di 20 minuti alle volte si può fare anche di 30 i grafici come vi ho detto sempre sono più stabili allora vediamo subito la tecnica magari prendiamo l'asset AUD usd che ci sono più opportunità ho visto allora prima di tutto dovete investire quando la dx è in trend quindi si trova sopra la linea dei 25 e poi questa media mobile ha 40 periodi che fa anche da supporto e resistenza quindi si comporta proprio in questa maniera quindi quando il prezzo si trova nella parte inferiore abbiamo un ribasso quando si trova nella parte superiore abbiamo un rialzo noi quando dobbiamo investire dobbiamo investire quando quando la candela attraversa la quando la candela attraversa la media o dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto per un trend rialzista quindi quando attraversa la candela dall'alto verso il basso ci rendiamo conto che il trend è ribastista anche perché il parabolic SAR ci indica che il trend sta andando a ribasso vi ricordo che l'indicatore parabolic SAR quando il trend va a ribasso i puntini si mettono sopra il prezzo mentre quando il trend va a rialzo i puntini si posizionano sotto il prezzo allora quando abbiamo l'indicatore parabolic SAR che ci indica un trend a ribasso e c'è la candela attraversa dall'alto verso il basso la media a 40 periodi possiamo investire a 20-30 minuti a ribasso mentre quando l'indicatore parabolic SAR ci indica un trend rialzista e la candela attraversa dal basso verso l'alto la media mobile a 40 periodi possiamo investire a rialzo allora qui abbiamo già due opportunità di investimento anche perché la DX è in trend allora qui a rialzo e qui a ribasso ricordatevi che queste sono candele da 10 minuti vediamo qui c'è un'altra opportunità di investimento a ribasso vedete anche se qua il prezzo si è rialzato se voi investite a questo livello il prezzo non può mai rialzarsi del tutto e quindi l'operazione va in guadagno perché comunque il livello è rimasto questo investendo qui il prezzo rimane a questo livello quindi voi riuscite a guadagnare invece che succede in quest'altra situazione in quest'altra situazione anche abbiamo un rialzo qua abbiamo un periodo di assestamento però qua abbiamo un rialzo quindi investendo con una scadenza di 20-30 minuti l'investimento andrebbe benissimo qui invece c'è un'altra opportunità vedete c'è stato un candelotto rialzista che ha attraversato la media a 40 periodi poi c'è stato un assestamento e poi c'è stato di nuovo un rialzo e l'indicatore parabolic SAR come al solito ha indicato un trend rialzista allora come vi ho fatto vedere le opportunità di investimento sono queste allora abbiamo qui 1, 2, 3, 4, 5 opportunità di investimento quando la DX non è in trend è meglio non investire anche se io molte volte ho provato pure con la DX non in trend e l'investimento comunque è andato a buon fine adesso io vi vorrei far vedere come configurare i grafici della piattaforma di FrixoChart allora andate sul sito www.frixochart.com quelli che stanno sul mio sito sono pure i grafici di FrixoChart ma per le persone magari che si sono già iscritte qua e vogliono andare su questa piattaforma io faccio vedere anche come si configurano allora andare nella versione gratis bisogna andare nella versione gratis io sono già iscritta ho inserito solo le mail e la password invece i miei grafici sono liberi allora come vedete io li ho già configurati perché qui rimangono però come vi ho detto sul mio sito io vi metterò i grafici multipli già configurati e quindi a voi basterà aprire soltanto lo schermo e visualizzare l'andamento degli asset mentre su questa piattaforma non si possono fare grafici multipli allora io l'ho già configurata però adesso elimino tutto così vi faccio vedere come si configura allora questo è un grafico AUD CAD ho messo un time frame di 10 minuti lo sfondo è rosa perché l'ho fatto io quindi ve la potete configurare come volete ho spiegato molte volte come si fa a configurare allora per aggiungere indicatori andate su ADD Indicator e aggiungete l'ADX configuratelo rimuovendo l'ADXR l'ADX andando su Edit e mettendo di period 9 e smooth 14 poi andate e mettete su Edit Plot Guides la linea dei 25 di colore rosso ok abbassate la finestra e inserite una media mobile di 14 periodi moving average sul prezzo una media mobile scusate di 40 periodi sul prezzo allora moving average andate su Edit e scrivete 40 e poi inserite l'indicatore Parabolic SAR semplicemente in questa maniera allora sarà inserito allora se volete allargare il grafico io lo allargo con il cursore del mouse o lo restringo come meglio vi trovate dunque qua ci sono parecchie occasioni per esempio io ho fatto un investimento qui che vi farò vedere vedete qui anche se l'ADX non era propriamente in trend l'investimento è andato bene perché mi sono trovata che la candela ha attraversato la media 40 periodi e l'indicatore Parabolic SAR indicava un rialzo e in effetti mi sono trovata bene poi per esempio qui qui c'è un altro rialzo dove il Parabolic SAR indica un rialzo e la candela ha attraversato la media a 40 periodi qui in questo punto c'è stato un ribasso vedete come sono frequenti questi investimenti quindi potete stare tranquilli i grafici sono stabili e gli investimenti sono frequenti quindi in questo momento c'è stato un ribasso l'indicatore Parabolic SAR si è posizionato sopra il prezzo e la candela rossa ha attraversato la media mobile a 40 periodi dall'alto verso il basso qui invece c'è stato un ulteriore rialzo il Parabolic SAR ha segnato un rialzo e le candele sono andate a rialzo anche se la DX non era propriamente in trend molte volte questa tecnica funziona anche quando la DX non è in trend perché io l'ho sperimentata allora qui per esempio possiamo dire che c'è stato un falso segnale perché ha ripreso subito a rialzo non è durata 20 minuti quindi diciamo dopo tanti investimenti positivi ci può capitare anche un falso segnale però da notare che la DX stava scendendo quindi quando la DX sta scendendo è un po' pericoloso investire qui invece c'è stato un rialzo fantastico e vedete il Parabolic SAR si è posizionato sotto il prezzo a indicare il rialzo e qui c'è stato l'attraversamento delle candele al rialzo allora qui vediamo che c'è stato qui c'è stato un ribasso un ribasso dove c'è stato subito un rialzo diciamo che ci poteva essere perché le candele sono durate per 20 minuti e poi c'è stato un improvviso rialzo vediamo se c'è qualche altra occasione i grafici si fanno piccoli come vedete quando si va indietro nel tempo qui per esempio c'è stato un'altra occasione al rialzo che è durata per 20 minuti allora come vedete questa tecnica è molto buona è prestante e ci sono pochi falsi segnali quindi alla fine se perdete una o due volte e riuscite a vincere cinque volte alla fine siete sempre in guadagno allora questa tecnica io la metterò sul sito e come vi ho detto vi creerò dei grafici multipli per permettervi di seguire più asset contemporaneamente questa tecnica la metterò anche sui miei libri che usciranno prossimamente e spero che vi possa portare dei magnifici guadagni allora vi rinnovo i miei auguri e ci vediamo nel prossimo video ciao e grazie della vostra attenzione